numero 5 scrivania dallo stile moderno e lineare adatta ad ogni tipo di arredamento il solido telaio in acciaio e il piano di lavoro spesso sono costruiti per sostenere fino a 45 kg di peso il prodotto viene consegnato smontato nella confezione è incluso il kit di montaggio dotata di un anno di garanzia resistente ai graffi trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 4 questa scrivania per ufficio è dotata di un telaio in metallo di alta qualità un ripiano di legno e un tubo quadrato in metallo completamente verniciato i materiali di alta qualità garantiscono resistenza e un utilizzo di lunga durata questa scrivania robusta ha una capacità di carico fino a 120 kg la scrivania offre un'ampia superficie per soddisfare esigenze lavorative di studio o di gioco dotata di quattro piedini in gomma per evitare danni al pavimento durante lo spostamento acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 3 scrivania per ufficio o camera dei ragazzi superficie facile da pulire molto resistente design moderno misura 120 centimetri di larghezza 75 di altezza 60 di profondità grazie al suo design semplice e moderno si adatta a qualsiasi arredamento di casa la grande scrivania offre spazio per computer monitor alto palanti stampante e molto altro ideale per casa e ufficio elevata sicurezza e stabilità grazie alla lavorazione di alta qualità la superficie di lavoro è facile da pulire grazie al rivestimento in melamina resistente ai graffi se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 2 scrivania dal look moderno ed elegante ideale per l'ufficio home studio o stanza per ragazzi offre abbastanza spazio per tutte le componenti da ufficio e i cassetti sono disposti su guide metalliche disponibile in due diverse colorazioni la scrivania è realizzata in legno laminato la struttura è stabile e robusta il prodotto viene consegnato smontato il kit di montaggio è compreso nella confezione in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 1 scrivania combinata con scaffale cassetti ripiano inferiore e 4 ripiani aperti salva spazio design compatto offre spazio sufficiente per mettere computer libri e ornamenti ideale per ufficio e studio il pannello posteriore aperto è molto comodo per l'installazione e la manutenzione del computer offre un facile accesso ai cavi e al retro dell'hardware telaio in metallo con finitura bianca molto resistente e durevole nel tempo ha un'altezza di 123 centimetri una larghezza di 133 e 55 di profondità ottimo articolo se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione